La Lega si presenta alla città di Pesaro in vista delle elezioni amministrative di giugno a sostegno del candidato sindaco Marco Lanzi e della coalizione di centrodestra. Tra consiglieri comunali uscenti e dirigenti locali che si preparano alla corsa di giugno, la figura del capolista è stata individuata nel consigliere comunale Dario Andreolli. La nostra lista è una lista che ha posto all'interno della coalizione a sostegno di Marco Lanzi sindaci contenuti ed esperienza come dimostra la presenza di ben quattro consiglieri comunali uscenti all'interno della nostra lista. Una lista che si compone di uomini e donne, di giovani, di professionisti provenienti dal mondo della scuola, dal mondo dell'impresa. Noi abbiamo posto da subito il tema a Marco dei contenuti, della qualità dei contenuti, contenuti di discontinuità rispetto al passato per avere una Pesaro realmente provinciale, per avere una Pesaro che non si basa più la sua azione amministrativa negli annunci ma nella concretezza delle scelte. Ecco, la Lega che è un partito che ha nel pragmatismo la sua forza e la sua volontà e la sua capacità di governo, ha posto a Marco questo tema e siamo stati molto ascoltati all'interno del programma che abbiamo steso come coalizione. Sono vari i temi trattati dalla Lega durante la presentazione, così come le iniziative proposte, che spaziano dalla sicurezza al terzo settore, passando per la riqualificazione della città e del verde urbano. Noi riteniamo di avere riqualità nella nostra città, riqualità come coalizione, di poter rappresentare una svolta e un punto di cambiamento per la città. In queste settimane il candidato avversario Andrea Biancani sta dimostrando di non avere contenuti per questa città, di non avere una visione programmatica e di porre solamente una volontà di essere contro qualcuno, contro la regione, contro il governo nazionale, mai a favore della città. Ecco, noi siamo un qualcosa di diverso. Quali sarebbero le prime proposte che portereste come maggioranza in Casa Uniste Letti? Innanzitutto una giunta che si occupi della qualità del vivere, che abbiamo detto che è rappresentata dalla qualità delle scelte sul lato delle manutenzioni, pensiamo alle strade con l'abrodo che abbiamo in giro, ai marciapiedi, alla cura dei parchi, agli investimenti per le scuole che vogliamo raddoppiare. Una proposta che porta ad una volontà di dare una forte discontinuità nelle politiche ambientali che non si fanno con scelte ideologiche ma con scelte concrete. Non si può scendere in piazza con i ragazzi dei Friday for Future e allo stesso tempo sottrarre risorse all'ambiente tramite i dividendi di Marche Multiservizi per mettere la spesa corrente. Ecco, noi vogliamo che quelle risorse vengano destinate ad investimenti per l'ambiente, per i rifiuti e per l'acqua. Grazie.